Siamo arrivati all'ultima serata di questo primo ciclo di serate di filosofia e progetto. Inizio questa serata con i ringraziamenti doverosi. Ringraziamo come Centro Studi di Comune di Lissone e in particolare l'assessore Fraschini che hanno dato avvio a questo ciclo, il dottor Pirola della biblioteca che ha ospitato le prime serate, il direttore Luigi Cavadini che vedo stasera, direttore del museo che ospita questa serata e quindi i relatori autorevoli che hanno partecipato alle serate precedenti che speriamo possano essere ricoinvolti nella fase di ulteriore ricerca e studio. E quindi Petrosino, Morigi, Savardi, Boncinelli e il professor Oleari. Grazie anche a chi ha realizzato le riprese con grande competenza, Gloria Massironi e la collega Simona. Alla fine lascio i miei collaboratori, nonché colleghi, Elisa Castelli e Villa Camillo che non solo mi assistono nel mettere a punto gli ambienti, ma soprattutto mi assistono nello studio e nella ricerca, cosa assai più complicata. Stasera il professor Claudio Oleari, fisico, puro, che è anche membro del comitato di presidenza del gruppo colore appena costituito, dove faccio parte anch'io, è docente di colorimetria al corso di laurea di conservazione e beni ambientali di Pavia, di Parma, e soprattutto è uno dei pochi personaggi che da molti anni ha affrontato il tema del colore dal punto di vista di un'analisi corregimi se sbaglio, metrologica, oltre che un'attenzione al fatto che dopo l'occhio succedono delle cose non misurabili e di grande complessità. Mi alzo un istante così riesco ad essere più efficace nella spiegazione perché la sintesi non è così semplice. Le lavagne di testimoniano questo percorso che abbiamo fatto, questa sintesi soprattutto per chi non ha seguito le prime serate. La prima serata con Silvano Petrosino, filosofo, Genesi 2,15, Dio prende l'uomo, lo manda sulla terra, gli dice di abitare, ma di abitare un giardino, quindi di curare lo spazio che abita. Le parole chiave che sono emerse sono state queste. Luogo, casa, giardino e cura. Se non si abita con cura, si distrugge. La prima serata quindi ci ha messo in evidenza quanto l'uomo non abbia bisogno di una copertura, di edilizia, ma abbia bisogno di architettura, abbia bisogno di pensiero, abbia bisogno non solo di numeri, ma di significati. Nella seconda serata, Savardi, psicologo non clinico ma sperimentale, scuola di Canizza, vedere contro percepire, ha affrontato il tema del che cosa è davanti a noi, che cosa entra nell'occhio e cosa arriva al cervello. Il prima è materia, radiazioni, il dopo sono significati. Quindi il vedere non equivale al percepire. Il vedere è un fatto ottico, il percepire è un fatto cognitivo. molto complesso e stasera Oleari ci aiuterà a capire altri passaggi estremamente complessi, diciamo. Morigi, di nuovo filosofo, ha affrontato il tema dell'architettura che detta non solo regole di comportamento, ma regole o modalità di pensiero. Sostanzialmente quando noi abitiamo uno spazio i nostri organi di senso interrogano questo spazio, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo i nostri sensi non lo colgono, interrogano e questo è un elemento che ha sottolineato i nostri sensi interrogano e aspettano una risposta. Questa risposta va a modificare i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti. È forte la responsabilità di chi progetta spazi ed architetture perché induce comportamenti. L'architettura detta regole di pensiero. Boncinelli genetista ricercatore per 40 anni in un centro studi di Napoli negli ultimi anni si dedica alla divulgazione e in maniera molto efficace ci racconta come la nostra vita sia fatta di attimi di coscienza. Questi attimi di coscienza sono concatenati in maniera molto continua tanto che noi abbiamo la sensazione di presente continuo. Ha detto che il cervello ha dei grandi limiti di elaborazione di dati questi grandi limiti si dotano di memoria per poter fare prima e in fretta dare le risposte all'interno di questi 300-500 millisecondi. questo attimo di coscienza sequenziale non vive in maniera isolata rispetto a un contesto sociale ma ci dice anche noi stiamo studiando l'uomo molte delle cose non le conosciamo l'uomo non è un'isola è insieme ad altri uomini e quindi possiamo moltiplicare questa complessità perenne. Sostanzialmente ci dice la parte di conosciuto è molto minore di quanto ancora dobbiamo conoscere quindi se progettiamo per l'uomo dobbiamo avere presente che lo spazio di ricerca è ancora molto molto ampio avere la modestia di accettare un confronto stasera con il professore Oleari abbiamo come parole chiave fondamenti e ruolo della colorimetria nel progetto del colore sostanzialmente Oleari ci aiuterà a capire come chi progetta per l'uomo possa dotarsi di strumenti di governo delle apparenze e lo affronteremo da un altro punto di vista rientriamo sempre nell'ambito filosofico secondo me poi tu potrai dare qualche altra interpretazione in questo senso ma secondo me se prima non abbiamo ragionato in termini di significati e di perché fare un certo tipo di percorso l'utilizzo esclusivo degli strumenti non ci porta molto lontano e quindi dobbiamo riuscire a mettere in armonia le due anime professor Oleari prego grazie 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 perché essere qui a parlare delle cose per le quali si vive e si ha piacere è un piacere e quindi grazie grazie per chi ha organizzato tutto questo e allora incominciamo colore psicofisico colore psicometrico colore percepito e poi soft proofing parole esotiche come vedete le ho distinte con un colore diverso per dire sono cose diverse e quando parliamo di colore psicofisico o psicometrico vuol dire che siamo nell'ambito della misurazione e quindi qualcosa che è scientificamente ben definito ripetibile eccetera colore percepito e qui intervengono degli elementi che escono da quello che è la misurazione e soprattutto soft proofing cosa vuol dire è fare una prova di quello che è un progetto e accidenti qui perdiamo i controlli e quelle cose che vorremmo avere e che sono proprie della scienza e del mondo psicofisico e psicometrico sono due parole distinte e vedremo la differenza che sarà sostanziale perché avremo delle sorprese andremo all'inizio a misurare il colore senza parlare di colore e vedremo il come partiamo dalla percezione delle forme perché il primo rapporto che noi abbiamo con ciò che abbiamo davanti e se guardiamo un volto noi andiamo a vedere subito gli occhi le espressioni alcuni dettagli che sono parte della nostra cultura noi sappiamo che mediante gli occhi esprimiamo molto e andiamo a leggere quei punti dettagli che possono essere importanti per chi si occupa dei capelli qua noi li saltiamo perché non ci occupiamo di queste cose se poi andiamo a prendere il nostro arcimboldo il quale faceva figure con i fiori o con le verdure come in questo caso e facciamo lo stesso percorso e subito cogliamo un volto e poi ci distraiamo perché andiamo a vedere dei dettagli che non sono significativi per il volto hanno altre funzioni e quindi andiamo a distinguere quella nostra scena in forme micro e in forme macro andiamo avanti con le forme micro questa è una figura classica famosa che ci richiama a questa piccola figura il volto di Abramo Lincoln lo riconoscete in questa figura Abramo Lincoln? un pochino sì perché è tipica con la barba eccetera e andiamo nella dimensione macro è la stessa immagine allargata e questo è uno scherzo di Salvador Dalì come vedete qui Abramo Lincoln non c'è però c'è una delle formelle con il ritratto di Lincoln per dire guardate bene la chiave sta qui lui amava questi scherzi infatti molto ha giocato sugli scherzi visivi anche se lui è famoso per gli orologi che non sono piatti che sono flessibili eccetera eccetera abbiamo visto quindi come si muove l'occhio e com'è questa figura è una figura molto strana perché è statica ma ci appare il movimento e allora andiamo con l'attenzione quindi nell'analisi micro in un punto per vedere se lì c'è il movimento e accidenti come arriviamo lì il movimento non c'è e c'è d'altrove e quindi stiamo distinguendo ciò che noi vediamo con l'acutezza che abbiamo quando stiamo leggendo un testo e ciò che è tutto attorno a questa regione e continuiamo in questo senso qui abbiamo una figura costruita con dei cerchietti bianchi ecco e mentre voi muovete l'occhio vi rendete conto che all'interno di questi cerchietti bianchi compare una macchiolina scura va bene? e come? e allora andate a cercare una macchiolina scura e come fate l'attenzione su quella quella non c'è più e le macchioline scure sono tutte attorno e quindi ancora come vedete abbiamo una differenziazione tra quella che è la visione acuta e quella che è fuori dalla regione della sensibilità acuta della retina vuol dire che il nostro sistema visivo ha una sua complessità che si distingue nella parte centrale da quella dico non dico periferica perché periferica vuol dire anche andare lontano ma andare appena fuori da questa regione centrale e qui c'è il negativo di prima come dire la storia è la stessa tutto si spiega fisiologicamente non entriamo in quest'ambito perché se no le cose ci sarebbe da fare un corso su questo cosa vediamo qua? vediamo due quadrati grandi con all'interno due quadrati piccoli più piccoli e abbiamo un fondo molto chiaro a destra un quadrato grigio all'interno qui un fondo grigio con un altro grigio e se andiamo a vedere i livelli di chiarezza abbiamo quattro livelli di chiarezza ma questi sono percettivi non sono reali perché se io faccio così e prendo questo va bene e lo sposto qui vi rendete conto che sono uguali quindi la percezione quello che noi abbiamo come percezione non è corrispondente esattamente a quello che è lo stimolo perché lo stimolo è rappresentato da ciò che fisicamente è presente in quelle aree in quelle regioni e che giunge all'occhio ritorniamo al campo grande e abbiamo visto questo due abbiamo visto prima che il quadrato che sta su un fondo più chiaro ci risulta più scuro va bene e qui andiamo a vedere un grigio che ha contatto con linee nere e lo stesso grigio che ha contatto con linee bianche la regola è opposta quindi la regola che avremmo desunto prima qui non vale più è cambiato il fenomeno è cambiato prima si parla di contrasto adesso si parla di assimilazione guardate nell'ambito delle configurazioni che vengono fatte c'è tutta una letteratura ci potremmo divertire a vedere quanto è complesso il sistema visivo da questo punto di vista abbiamo due fotografie di una sveglia con un fondo una con la cornice nera e l'altra con la cornice bianca vi rendete subito conto che le due fotografie anche se anche pur essendo esattamente uguali ci appaiono differenti va bene guardate lo sfondo dietro alle due sveglie e vi rendete conto che sono diversi quindi il contesto rende mutevole ciò che noi vediamo e qui è un discorso interessante perché se guardiamo qui abbiamo questo livello che è uguale a questo poi abbiamo questo poi abbiamo questo e abbiamo questi altri due ma se noi spostiamo questa parte e l'alziamo come avviene qui ci rendiamo conto che questa parte e questa parte sono perfettamente uguali e quindi la scena si semplifica abbiamo qui altri discorsi che si aprono che è la sensazione di trasparenza ma non entriamo in quest'ambito perché se no il discorso si allargherebbe molto veniamo qui sono figure classiche sapete che vi sto proponendo abbiamo questo cubo con tanti quadrati colorati abbiamo questo abbiamo quello e poi abbiamo quest'altro qua che sono apparentemente molto diversi poi abbiamo sulla destra tre dischetti e allora facciamo come prima vedete io li prendo prendo questo e lo porto lì non è una sorpresa adesso dire che sono uguali che sono uguali e che sono uguali quindi non è più un problema soltanto di luminosità ma c'è anche l'aspetto cromatico che interviene in tutto questo va bene? il contesto condiziona tremendamente quello che vediamo quindi pensate voi al pittore è che concepisce i suoi colori sulla tavolozza e poi deve portarli sulla tela nel momento in cui li trasferisce la tela è tutt'altra cosa ma chi fa progetto ha questo problema inevitabilmente veniamo qui allarghiamo ancora il campo e quindi ancora abbiamo due quadrati su campi diversi che ci appaiono differenti e qui un fatto puramente cromatico di contrasto cromatico è anche sotto ma sotto c'è una punta in più nuova questo quadrato sembra avere una punta di verde e quello sembra avere una punta di rosso pur essendo identici potremmo fare il discorso di prima e qui nasce un discorso che riguarda le opponenze cromatiche percettive perché i colori dal punto di vista percettivo quelli che chiamiamo normalmente colori rosso, giallo, verde eccetera non sono tutti uguali ma entreremo in questo punto qui abbiamo che i due quadrati sono uguali e ancora abbiamo l'evidenziazione di questo contrasto è simultaneo qui abbiamo meraviglia questo osso e questo rosso che sono fisicamente uguali ma noi li percepiamo ben diversamente è un problema di assimilazione io sto partendo con tutti questi esempi per creare confusione sapete per dire che il vedere è una cosa molto complicata perché se fossi partito con la colorimetria psicofisica uno avrebbe detto ma è tutto qui è tutto così semplice è tutto così ridotto ma serve quando le cose sono così semplici procediamo questa è un'altra esperienza dovete guardare quella crocetta al centro senza muovere l'attenzione mentre parlo continuate a guardare quella crocetta al centro perché è importante perché dovete fare sì che tutta quella scena venga come ad essere solidale con la vostra retina e quello che emerge è questo che è quella lucetta che si spegne di fatto poi voi la percepite come verde e se insistite nel guardare la crocetta tutte le luci magenta che avete sul cerchio scompaiono e avete un campo grigio uniforme con una luce verde che si muove è sorprendente perché vuol dire che quando un segnale è ripetuto è il nostro sistema visivo porta a cancellare quello stimolo posso cambiare e esiste l'effetto Gansfeld campo pieno campo prendete una pallina da ping pong la tagliate in due e la mettete sugli occhi mezza per occhio è ovvio che a questo punto ciò che avete sull'occhio è una distanza tale per cui non potete metterla a fuoco quindi quello che vedete è qualcosa di indifferenziato è una luce che entra e basta a questo punto subito ancora vediamo ma dopo poco incominciamo a vedere qualcosa di fantomatico qualcosa di instabile di insicuro e progressivamente scompare il campo visivo diventa nero buio il sistema visivo ha reagito in questo modo di fronte a una luce senza richiami per cui ci sia un'attività mentale a costruire un'immagine una scena a costruire uno spazio automaticamente l'informazione viene bloccata il sistema visivo non si attiva qui mi verrebbe da chiamare un'esperienza famosa l'hanno fatta con dei gattini perché il gattino non protesta appena nato hanno dato due punti alle palpebre di un gattino e hanno tenuto il gattino con la palpebra chiusa per una settimana dopo una settimana hanno tolto il punto la palpebra si è aperta dal punto di vista anatomico non è successo niente il sistema visivo è integro però quell'occhio che per una settimana non ha visto è inibito a vedere per tutta la vita e quindi vi rendete conto come il sistema nervoso perché stiamo parlando di propaggini del cervello la retina è materiale nervoso bene questo si organizza in funzione della vita altro punto interessante vedete quel puntino nero dovete guardare quel puntino nero per il tempo che vi parlo perché se questo non accade tutto quello che stiamo per vedere perde che figura è? è una figura un po' brutta diciamo rappresenta un castello un castello spagnolo con dei colori molto adesso io vado a proporvi un'immagine ancora del castello e c'è un puntino in corrispondenza al puntino nero e dovete continuare a guardare quel puntino nero finché io parlo perché se no il fenomeno non accade va bene guardate il puntino nero perché cosa vedete? vedete un castello in un mondo a colori muovete l'occhio e automaticamente il colore scompare quindi quello che noi percepivamo era indotto dallo stimolo precedente nel tempo e cosa succede? subito immediatamente ma se uno muove l'occhio immediatamente uno deve guardare il puntino che c'è in corrispondenza al puntino nero perché guardate il puntino nero perché se no andiamo avanti ecco qua ok ok dovete pensare che noi nell'occhio ma lo vedremo tra un attimo la retina non è tutta uniforme ma ne parleremo percezione in fotografia misura o piacevolezza c'è il credere diffuso che quando uno fa una fotografia è come se avesse misurato le radiazioni che ci sono sulla scena tradotte in colore e quindi fosse misura il risultato di una misurazione guardate nulla di più falso le macchine fotografiche che abbiamo innanzitutto non ci producono due immagini uguali e poi hanno uno scopo fare un'immagine che piaccia e andiamo a vedere faccio un esempio queste sono delle foglie va bene belle ma non lo so io adesso ve le ripropongo così sono più belle ma forse sì ma forse sì e adesso ve le ripropongo ancora così qual è meglio ah non lo so se adesso torniamo indietro e uno dice la più bella è quella che ho appena visto e se torno indietro ancora la più bella è quella che ho appena visto insomma ci sono dei gradi di libertà nel definire un'immagine per la quale per le quali ha un ruolo importante non la misura o misurazione ma la piacevolezza qualcuno dice la verosimiglianza solo che parola verosimiglianza mica sempre si traduce bene in inglese e la parola giusta è verosimiglianza perché noi vogliamo riconoscere in quello che vediamo riprodotto l'originale e l'originale non l'abbiamo qua di fianco con cui fare il confronto ma l'abbiamo nella memoria e in questa operazione la memoria ha alterato l'oggetto e ancora vi faccio lo stesso discorso come vedete le alteriamo e ci chiediamo quale è meglio va bene e adesso entriamo nel discorso vero specificazione psicofisica del colore è misurabile il colore il colore che cosa è è una sensazione che vive nel nostro sistema nervoso e quindi è qualcosa di assolutamente incomunicabile strano perché tutti parliamo di colori e vedremo signora vedremo vedremo perché poi qui c'è un'ambiguità impressionante potremmo fare la storia che ci parta indietro a Newton e sarebbe meravigliosa però seguiamo questo discorso e su questo punto se vuole e poi ritorniamo perché è un punto importante procediamo con ordine è misurabile il colore il colore è una sensazione che vive nel nostro cervello ed è incomunicabile lo sottolineo perché se io dico che questo schermo è rosso io associo a questa radiazione una sensazione io non so quale sia la sensazione che voi vivete ma voi associate a questa sensazione il nome rosso e ci illudiamo di comunicare ma di fatto io non sono entrato nel vostro cervello e non sono in grado di vivere la vostra sensazione quindi il colore come sensazione è incomunicabile qualcuno dice ma le macchine sono analoghe simili e quindi perché no ma io se in queste macchine faccio due fili che si scambiano i colori si alterano tutti e penso che non ce ne accorgeremmo nel comunicare comunque andiamo avanti il colore è una sensazione quindi il colore è soggettivo è misurabile il colore se è una sensazione soggettiva vi leggo perché così siamo più sintetici il colore è misurabile poiché persone diverse sono in generale d'accordo circa le uguaglianze tricromatiche di colore il nome corrente è uguagliamento metamerico del colore cioè convengono che radiazioni fisicamente diverse appaiano visivamente uguali il confronto delle sensazioni di colore tra individui diversi non è richiesto e il problema della misura del colore viene ricondotto a misure fisiche di radiazioni luminose che inducono uguali sensazioni di colore in osservazioni normali sarebbe un discorso della lunghezza d'onda come accennava la nostra signora se avessimo radiazioni spettrali ma nel momento in cui abbiamo radiazioni che nel loro insieme contengono tante radiazioni spettrali io posso modificare lo spettro lasciando inalterata la sensazione di colore questo è il fenomeno del metamerismo è un fenomeno molto importante che io non ho imparato a scuola ho imparato per caso anche se intrinsecamente era in qualche modo noto però non ero cosciente ma sappiate che tutta la riproduzione dei colori quella che avviene su questo schermo non è una riproduzione spettrale è una riproduzione metamerica e per questo è uguale è semplice quasi tutte le riproduzioni a colori su monitor e su carta stampata sono metameriche non è metamerica la riparazione che facciamo nell'automobile perché se fosse metamerica cosa succede? cambiamo lampadina e beh vediamo dove abbiamo fatto le riparazioni ma se non cambiamo lampadina tutto è uniforme e un'esperienza molto importante è quella del metamerismo apro una parentesi perché la scuola non mi ha mai parlato di queste cose io sono arrivato a queste cose per puro caso prima io mi occupavo di teoria dei gruppi nella fisica vale a dire trasformazioni di invarianza ci sono gli invarianti le grandezze che si trasformano eccetera potremmo entrare qui e il metamerismo ha una sua natura gruppale è un gruppo di trasformazioni che lasciano inalterata la sensazione modificando lo spettro e questo può essere formalizzabile matematicamente fu la presa di coscienza di questo fenomeno e questa possibilità che mi ha portato a occuparmi di queste cose e ha cambiato la mia vita procediamo psicofisica allora la psicofisica è quella disciplina che studia le relazioni tra stimoli cioè la fisica e le sensazioni la psiche e il metamerismo che è questo fenomeno è il fenomeno secondo il quale radiazioni luminose fisicamente differenti producono uguali sensazioni di colore tutto è standardizzato e la CIE la Commissione Internazionale dell'Illuminazione ha standardizzato un osservatore il quale in qualche modo rappresenta la nostra media senza parlare di colore e questo è il punto perché nell'uguagliamento metamerico delle luci quando io riprodotto questa luce e dico che è uguale a questa dal punto di vista percettivo bene io non ho detto se questo colore è giallo o è rosso ho fatto l'uguagliamento metamerico e ho fatto la distribuzione spettrale di potenza delle due radiazioni al fine di caratterizzarle dal punto di vista fisico tutto avviene in modo di visione in apertura vale a dire dobbiamo isolare il nostro campo visivo renderlo inattivo escludendo un piccolo cerchio che visto da una distanza opportuna sottenda un angolo solido la cui sezione non sia superiore ai 4 gradi in questo modo noi sfruttiamo solo una piccola parte della retina quella centrale quella usata per la visione acuta e quindi nasce tutto lo studio relativo a un osservatore per la visione acuta non la visione fuori dalla regione destinata la visione acuta la luce è misurata fuori dall'occhio e cosa avviene nell'occhio? beh vista fuori dall'occhio abbiamo radiazioni luminose caratterizzate se volete con una lunghezza d'onda e a ciascuna lunghezza d'onda associamo i colori dell'arcobaleno per intenderci no? ecco sono radiazioni elettromagnetiche prendiamo il nostro cristallino eccolo qua dai 6 mesi ai 91 anni io che mi trovo tra i 60 e i 70 più vicino ai 70 che i 60 quando vedo questa immagine sto male perché mi rendo conto che non vedo più come quando avevo 20 anni però devo dire questo non me ne accorgo e questo è il punto e vuol dire che c'è qualche cosa nel mio processo visivo che mi porta a non prendere coscienza di questo filtraggio che avviene nel cristallino guardate sono densità ottiche importanti se uno le va a vedere e sa cosa vuol dire densità ottica si rende conto che parlare di due unità di densità ottica vuol dire che si sta parlando di un centesimo della radiazione che passa e quindi procediamo quando andiamo dall'oculista guarda il nostro affondo dell'occhio e quello che vede è questo tutto è ricoperto dai vasi sanguigni che alimentano la retina e la retina la luce che arriva prima incontra i vasi sanguigni e poi va oltre e i fotorecettori sono nella retina l'ultimo strato di cellule noi noi non vediamo questa ragnatela di vasi nel nostro campo visivo vuol dire che c'è un sistema dietro che ce li cancella tutti poi c'è questa parte centrale destinata alla visione acuta dove i vasi sanguigni non ci sono però la vediamo anche scura anzi giallastra tant'è vero che viene chiamata macula lutea gialla lì c'è un pigmento inerte il quale filtra la luce se volete là c'è la densità ottica di questo pigmento la quale come vedete ci dice che l'assorbimento viene tutto tra le corte lunghezze d'onda i 400 nanometri e i 550 nanometri oltre sulle lunghe lunghezze d'onda non avviene niente vale a dire per le luci giallo-rosse così non abbiamo effetto ma per le luci blu e verdi accidenti se opera altro che va bene se volete là c'è anche la molecola ma non parliamo di questo perché poi io non sono preparato non sono chimico e quelle cose ma la cosa interessante è questo che questo filtraggio avviene sulla luce prima che questo arrivi sui fotorecettori e cosa vuol dire è che se io ho un campo uniforme la luce che arriva ai fotorecettori che guardano una certa parte quella centrale vista dalla retina ha un contenuto spettrale quella fuori dalla parte centrale è diverso ma io vedo uguale non me ne rendo conto e quindi c'è un fenomeno che potremmo classificare come color constancy il quale sostanzialmente è un meccanismo che neutralizza i filtraggi che continuano nel tempo abbiamo visto che c'è differenza tra visione foveale e periferica e quindi in atto un osservatore standard per la visione foveale e uno per quella appena fuori dalla fovea qui abbiamo un campo visivo diciamo di due o quattro gradi e che coinvolge quella fovea la parte centrale e vediamo anche sotto il centro di questa parte poi abbiamo una visione periferica appena fuori dalla macula lutea e le differenze qua incominciano a notarsi però per vederle non dobbiamo vivere come viviamo tutti i giorni ma dobbiamo andare in laboratorio e incontrare veramente delle luci spettrali e allora ci rendiamo conto delle differenze e rimarremo tutti sorpresi come muovendo l'occhio accidenti i colori cambiano allora veniamo all'uguagliamento metamerico delle luci che è l'elemento fondamentale per la costruzione di una colorimetria psicofisica prendiamo una scatola qua la vediamo in sezione dentro si è pitturata bianca come questo schermo e poi da questa parte è aperta in modo tale che un osservatore che si pone qui guarda dentro la scatola è divisa in due da questa paretina qui mettiamo una luce che illumina il fondo e quindi quello che io vedo è questo là ci sono tre lampadine una rossa una verde una blu e io come osservatore ho in mano tre comandi per modulare il flusso luminoso emesso dalle tre sorgenti rossa verde e blu e aggiusto le cose fino a che le due parti sono uguali in questa operazione se è giallo e verde non mi interessa quello che mi interessa è conoscere l'uguagliamento è qui che interviene l'osservatore due fare la misura spettrale delle luci perché questa è la misurazione fisica che ci porta a fare la corrispondenza tra le sensazioni di colore e la radiazione che stimola il sistema poi le tre potenze delle tre lampadine o se volete i tre flussi che vado a miscelare cambia poco li considero come grandezze indipendenti e le riporto su tre assi ortogonali in uno spazio tridimensionale aggiungo euclideo nel senso che ha senso in questo spazio l'operazione di somma tra vettori e quindi è uno spazio vettoriale meraviglioso perché cosa vuol dire vettoriale? vuol dire semplicemente che se qua io sommo due luci e prima avevo R1 G1 B1 per fare l'uguagliamento con la prima e poi R2 G2 per fare l'uguagliamento con la seconda nel momento in cui ho sommato le due luci dall'altra parte faccio R1 più R2 G1 più G2 eccetera l'uguagliamento persiste e questo è quello che si verifica cioè questa natura vettoriale entra dentro in questa specificazione e possiamo anche rappresentare tutti i colori associati alle varie miscele di quel rosso di quel verde di quel blu ai colori posti su questo triangolo mettendo sui tre bordi sui tre vertici tre piattelli che ho caricato con la montare di contenuto di rosso di verde di blu relativo a una particolare miscelazione e il colore che qui ottengo è quello ottenuto da questi tre ingredienti e se cambio gli ingredienti cambio il punto di appoggio di questo triangolo visto come gioco bidimensionale e così io rappresento tutti i colori che posso ottenere miscelando queste tre sorgenti di luce rossa, verde e blu questo triangolo visto in prospettiva che ha questa forma lo posso rappresentare come un triangolo equilatero e questo è un diagramma di cromaticità visto nello spazio lì chiamato spazio del tristimolo lo posso vedere come un piano in quello spazio eccolo lì con i bordi segnati in bianco la cromaticità è il punto di intersezione dei vettori con questo piano se vogliamo entrare nei dettagli e quelle tre equazioni che vedete definiscono esattamente la cromaticità dal punto di vista matematica a decidere che cosa fare come gestire quelle somme quelle somme allora quelle tre somme nascono dal momento in cui io ho definito quanto vale r g e b cioè la potenza delle tre lampadine va bene e lo faccio all'osservatore e io lo faccio con l'otero no io ho tre mani tre diaframmi che mi permettono di modulare il fiusso delle tre lampadine no io lo faccio su quel fondo all'interno di quella scatola di prima l'occhio qui l'osservatore io mi ero messo qui e ho detto guardiamo dentro alla scatola questo è il foro e quello che vedo è questo sta bene e quindi sul fondo da questa parte vedo questa parte sopra vedo la miscela del rosso del verde del blu e io ho fatto l'uguagliamento che questo sia giallo rosso verde non me ne sono occupato non è problema mio il mio problema è di avere fatto l'uguagliamento poi prendo uno spettro radiometro misuro le radianze associate a queste due parti e vado avanti va bene signora? grazie perché quando si parla vuol dire che poi ci si capisce quindi una volta che io conosco RGB costruire quelle tre relazioni è semplice e vado a definire un punto sul diagramma di cromaticità questo è importante è importantissimo perché ha permesso la costruzione per esempio della televisione se noi andiamo a vedere con una lente di ingrandimento i nostri monitor vediamo che l'immagine è costituita da elementi piccoli che vengono chiamati pixel picture element elemento di immagine non possiamo andare oltre perché andando oltre vediamo le tre lampadine rosso verde blu e noi modulando la intensità di queste tre lampadine riproduciamo tutti i colori che un monitor televisivo è in grado di riprodurre il monitor se andiamo a vederlo in modo diventa costituito ogni pixel in questo modo è un successo caspita lo vediamo tutti i giorni siamo contenti delle immagini per televisione altro che è questo il risultato di questa colorimetria psicofisica è un successo sì ma il ma lo vedremo dopo tra poco perché ci sono dei ma molto interessanti che riguardano il sistema visivo e se andiamo a prendere la carta stampata è ancora la stessa cosa si dice che la carta stampata sia ottenuta con una sintesi sottrattiva mentre quella che prima abbiamo visto è una sintesi additiva perché sottrattiva è perché uno non parte dalla carta stampata ma va indietro a prendere la lampadina guarda la luce della lampadina è bianca arriva qui sulla carta stampata incontra degli inchiostri parte della luce assorbita quindi quella parte di luce che torna indietro è quella che illumina sottratta della parte assorbita tecnica sottrattiva ma adesso cambiamo modo di vedere prendiamo questo che è un pezzo di carta stampata ne prendiamo quell'elemento che per noi è il pixel e lo vediamo come eccolo là dentro abbiamo messo tre inchiostri un giallo un ciano e un magenta le andiamo a sovrapporre a caso perché poi non è importante e abbiamo di fatto lì che il quadrato è costituito da otto porzioni con colori diversi e allora cosa succede? è una sintesi vista da questo punto di vista additiva quindi quando si parla di sintesi additiva e sottrattiva dobbiamo in qualche modo intenderci perché l'una e l'altra si apparentano perché poi tutto riguarda il sistema visivo e anche qui è un successo accidenti la carta stampata come no sì ma e quindi noi ci muoviamo con la colorimetria psicofisica in una visione in cui il colore è specificato all'interno di uno spazio vettoriale lineare il riferimento in questo spazio può essere vario e quindi parliamo di RGB di CMY XYZ LMS e potremmo entrare in questi dettagli e vedremmo molto interessante perché ciascuno di questi riferimenti non è fatto a caso è fatto perché ci sono delle ragioni di convenienza se non altro pratica o perché ci sono dei significati importanti da evidenziare ma non è questa la sera di parlare di questo anche se è importantissimo e adesso andiamo nella specificazione psicometrica poteva esistere una specificazione specificazione vuol dire traduzione in numeri rappresentazione mediante numeri specificazione psicometrica del colore che non parlasse del colore insomma io non posso andare a dare dei numeri senza dire questo è rosso o è giallo e allora partiamo adesso dai colori perché come li percepiamo abbiamo visto che sono tremendamente condizionati dal contesto e allora noi facciamo un bel contesto nero e poi andiamo lì a metterci i nostri colori e come partiamo? partiamo subito prendendo i colori dell'arcobaleno i quali sono già ordinati in modo naturale tra virgolette dovremmo intenderci cosa vuol dire naturale e quindi partiamo dal rosso eccetera eccetera facciamo tutto il giro e poi ci andiamo a mettere anche quelli fuori dall'ospetto perché esiste il colore magenta che nasce dalla miscelazione del violetto del blu con il rosso e a noi serve va bene e poi andiamo a prendere un grande che si chiamava Ehring il quale contro la visione che abbiamo appena visto quella quella psicofisica ma se vi cito i nomi di coloro che hanno dato origine alla visione psicofisica del colore c'è da rabbrividire perché Newton Newton aveva detto del metamerismo usando altre parole nel 1670 nel 1704 pubblicò il suo libro tutti erano contrari e tutto il 1700 non comprese appieno la portata di Newton dobbiamo arrivare dopo poi ci mettiamo Young per uno che sappia un poco di fisica conosce i contributi di Young agli aspetti ondulatori dell'ottica e poi veniamo avanti Helmholtz è un gigante dal punto di vista matematico Grassmann è quello che ha dato origine agli spazi vettoriali lineari e poi il primo che ha fatto le misurazioni è stato Maxwell ma il primo nella storia che ha fatto la prima fotografia a colori si chiama Maxwell è gigante è fatto quello che ha fatto l'unificazione delle forze elettromagnetiche ed elettriche magnetiche ed elettriche ha dato origine a una teoria la quale accidenti non era più classica con tutti i problemi che ha portato e c'è da rabbrividire e poi è arrivato un altro di nome Erwin Schrödinger il quale quando Ehring e stiamo parlando di queste cose ha detto voi avete sbagliato tutto e Schrödinger che si riteneva bravo ed era bravo è partito dire ci penso io ed è partito ci ha lavorato sopra dieci anni ha fatto tutto un modello però i tempi non erano maturi e quindi lo ha fatto troppo semplificato e ha introdotto in tutto questo modello che cosa una teoria matematica molto pesante ha introdotto un tensore metrico in modo tale da rendere quello spazio che avevamo visto compatibile con le differenze di colore percepite è un discorso che diventa complesso comunque coloro che hanno contribuito alla visione psicofisica ve li ho raccontati sono dei giganti la scuola accidenti in Italia non ce lo racconta è una storia ignorata dobbiamo andare in Inghilterra per imparare queste cose però i contributi degli inglesi sono stati importanti Alissone però ne parliamo ci mettiamo anche Huygens signora ma Huygens fu uno che fu tremendamente ostile a Newton Newton ebbe la sventura di incontrare due uno era Hook quello delle forze elastiche e l'altro era Huygens e hanno interposto dialogo perché apriamo una parentesi perché è troppo bella Newton che era bravo si era divertito i primi anni a giocare scusatene la parola con i prismi e quindi lui la rifrazione aveva imparato bene a conoscerla e aveva anche capito che è difficile fare una lente che sia priva di aberrazioni cromatiche va bene e tutti gli ottici di quel tempo banditi dalla chiesa perché parlare di lenti nell'ambito ecclesiastico era come bestemmiare si occupavano di costruire lenti che non avessero aberrazioni cromatiche e hanno inventato tutte le forme più strane per poter evitare questo Newton che aveva giocato con i prismi aveva capito che quella non era la via giusta e disse ma gli specchi non hanno intrinsecamente aberrazioni cromatiche perché come diremmo oggi non c'è indice di rifrazione e lui cosa fece? fece un piccolo telescopio di questo tipo con due specchi e l'evidenza fu che le aberrazioni cromatiche non c'erano più meraviglioso e di fronte all'evidenza tutti hanno applaudito il suo padrino lo ha presentato all'accademia e dopo che lui ha fatto e tutti hanno applaudito disse posso parlare della mia teoria del colore e quindi dell'ottica e parla pure ma lì c'era Huck che aveva la sua teoria che ha partito tremendamente a sparare e subito dopo Huygens e lui cosa ha fatto? cosa fa un grande di fronte a tanta voce? chiude la carpetta la mette nel cassetto 1703 Huck muore 1704 pubblica il libro di ottica tutti a dire ma è un'opera minore perché a questo punto lui aveva fatto tante altre cose è un'opera minore è come dire ma forse sbagliata e quindi questa ostilità a questa visione nuova è durata per tutto un secolo e oltre dobbiamo arrivare al 1850 quando Grassman dà una struttura matematica formalmente compiuta ai discorsi solamente idee di Newton perché il calcolo vettoriale con Newton non c'era ancora mentre nasce a partire da Grassman Grassman disse come prima applicazione di questi nuovi concetti prendiamo la teoria di Newton e tutti a non capire niente e cosa ha fatto? buttiamo via la teoria di Newton vi presento matematicamente tutte le cose in modo formale il concetto di spazio vettoriale passa e quindi ci troviamo con questo nuovo capitolo della matematica oggi Aldo chiedo scusa di questa divagazione però è troppo bello se poi mi dici di tagliare me lo dici mi è già ora di tagliare dici no un po' magari tagliare da parte che no perché magari attraverso le domande riusciamo poi a allora Ehring che vedeva le cose in modo diverso ma lui è uno psicologo e ha parlato di tinte uniche di tinte binari le tinte uniche sono quelle tinte per esempio un giallo in cui vedo solo del giallo non ce n'è del rosso né del blu e le tinte uniche che sono poi quattro rosso, giallo, verde e blu e quelle intermedie dati le tinte uniche in quest'ordine cosa comportano? E comportano che tra il rosso e il giallo ho gli aranci va bene e poi così via negli altri casi ma se io prendo due tinte uniche opposte il rosso e il verde cosa succede? E se io parto dal rosso e ci metto dentro del verde non ottengo un rosso verdastro ma sto cancellando il rosso progressivamente fino a che sostanzialmente vado su un acromatico e poi incomincia ad appartire il verde e analogamente se parto dal giallo per arrivare al blu e io parto dal giallo mi scelo un giallo bluastro non esiste e arrivo al blu e così via quindi qui abbiamo dal punto di vista percettivo queste che sono o dovrebbero essere le coordinate che Ehring da punto del del percettologo dice queste e aveva delle ragioni però al momento siamo nella seconda metà del 1800 lo scontro la controversia fu forte ci sono dei libri su questo andiamo avanti e quindi a questo punto parliamo di colore psicometrico parliamo di colore chiamandoli per nome rosso, giallo e verde e operiamo in posizione di controllo vale a dire è una posizione non un pezzo colorato posto in questa scena ma su un fondo acromatico illuminato in modo tale che non ci sia nulla che interagisca con questo sistema e qui io vado a disporre ordinatamente i campioni tenendoli accuratamente in modo separato perché se io li metto a contatto nascono le interazioni tra i colori che disturbano e in questo modo nasce tutto un sistema psicometrico il quale però mi permette di chiamare i colori e parlare chiamare i colori con il nome e mi permette anche di relazionarli dire qual è la differenza percettiva tra un colore e quell'altro questa è la cabina di luce là ci sono le classiche lampadine che vengono usate ma andiamo oltre e in questo modo nascono gli atlanti ma quando poi andiamo nei dettagli della costruzione di questi atlanti non è che ce ne sia uno ce ne sono tanti e qui li scorriamo rapidamente basati su principi diversi e su scopi diversi ma tutti sostanzialmente si tratta di colore psicometrico vedete qua come sono separati avete visto prima come sono separati fondo neutro non è che uno vada a prendere un fondo qualunque è perché quello disturba e poi se uno va nella pratica con dei campioni fisici e allora forse qualcosina guadagna qui ho fatto un elenco di spazi psicometrici che sono degli atlanti e poi ce ne ho messo uno chiamato Cielab Cielab è la commissione internazionale dell'eclarage dell'illuminazione L e Ab sono le nuove coordinate e questo è uno spazio ricavato dallo spazio del tristimolo quello psicofisico tenendo conto della lampadina eccetera eccetera cioè di situazioni visive che noi possiamo governare va bene e questo è lo spazio che tutti usano nelle aziende pur essendo uno spazio concepito con dei grandi limiti quando la Cielo propose non propose questo spazio ma ne propose questo e un altro chiamato Cieluv e le propose anche per scopi differenti poi la pratica ha portato a privilegiare questo e oggi la gente usa questo ma quando un ente propone due soluzioni è perché la soluzione vera non ce l'ha c'è un fatto che quando si standardizza una cosa che non è corretta passare superare questa inesattezza è un problema molto grande oggi possiamo comperarlo all'Atlantic e Lab andiamo in cartoleria prendiamo il RAL eccetera eccetera qui abbiamo le coordinate che sono o cartesiane o cilindriche poco importa però ci interessa fare vedere questo fatto che se vediamo il sistema come coordinate cilindriche possiamo considerare un insieme di colori a tinta uguale però cambia la pienezza di colore e si va dallo scuro al chiaro questa colonna è tutta acromatica va bene grigi però c'è una cosa sono stato dispettoso vi ho messo i campioni a contatto e voi vedete che questi quadratini non sono uniformi mentre fisicamente sono uniformi vi rendete conto che la parte sopra è più scura di quella sotto che è chiara ma vi rendete anche conto che nella parte destra noi troviamo un poco di tinta della sinistra che non c'è che è sul verde e nella parte sinistra troviamo una presenza della tinta rossa che vediamo qua quindi quelle opponenze cromatiche e ce le ritroviamo quando mettiamo a contatto i campioni che vuol dire che quelle le opponenze cromatiche sono qualcosa di più profondo che riguarda il sistema visivo e se adesso io cambio lampadina quell'insieme di colori diventa un'altra cosa il fondo che deve essere acromatico diventa questo se la lampadina è quella classica a filamento che vedete là oppure questa se la luce del giorno anche se simulata da una lampada fluorescente e questo quadratino e questo hanno le stesse coordinate sono colori diversi in questa situazione visiva sono diversi ma se noi fossimo adattati rispettivamente a questa lampadina o a questa e lo spazio Cielab fosse corretto quel quadratino e quel altro quadratino dovrebbero essere uguali percettivamente quindi come vedete quello che noi vediamo è fortemente dipendente dal contesto in cui l'andiamo a porre colore percepito colore istantaneo di color constancy instantaneous qua c'è la definizione che dà un inglese John Barber e io qua vi do la traduzione stiamo in casa abbiamo la finestra aperta sta venendo sera la luce del giorno sta scemando e noi accendiamo la luce ecco abbiamo cambiato lampadina ce ne rendiamo conto prima era la luce del giorno adesso è un'altra luce però c'è da dire una cosa ciò che era verde è rimasto verde ciò che era giallo è rimasto giallo eccetera eccetera questo fenomeno e guardate dal punto di vista spettrale potremmo avere delle grandi sorprese se andessimo a fare questa analisi questo fenomeno viene chiamato costanza istantanea del colore tipico è questo caso abbiamo lo stesso oggetto che è di gesso o di marmo illuminato con la luce del giorno a sinistra con la luce a filamento di tunsteno a destra e per noi guardarlo con l'uno o con l'altra pari sono ma se facciamo il confronto in questo modo per quel che ha registrato la pellicola accidenti le differenze sono grandi vi sto proponendo sempre questo è il cuscino di Hunt Hunt è uno dei grandi della colorimetria è ancora vivente ma ha un mucchio di anni non importa questo fatto questa è una fotografia con tanti oggetti colorati e un cuscino giallo nessuno ha dei dubbi adesso prendiamo un filtro azzurro e lo ritagliamo sul cuscino e ce lo mettiamo anzi lo ritagliamo anche poco bene per cui andiamo anche a finire un pochino sulla camicia che è bianca e cosa diciamo? ecco il cuscino è verde avete dei dubbi? ma adesso il filtro lo allarghiamo a tutta la scena e questo cuscino ritorna per noi ad essere percepito come giallo ci rendiamo conto che non è quel giallo però è giallo se poi con un paint shop tagliamo un pezzettino qui un pezzettino là ci rendiamo conto che questo e questo sono uguali infatti così non poteva che essere e allora ci viene un dubbio ma perché non allargare e questa è un'aggiunta rispetto all'esperienza di Hunt allarghiamo la regione filtrata in questo modo e cosa succede? ebbè che questo è percettivamente intermedio a quello e a quello è vero? qui c'è un'altra esperienza faccio il salto Aldo è interessante però non si può fare tutto e allora veniamo a quel famoso sì ma la televisione accidenti funziona bene ma dobbiamo capire che c'è qualche cosa che va aggiustato se voi chiedete alla vostra alla nostra operatrice qua dietro quando ha acceso la sua telecamera ha dovuto fare un'operazione quella di fare il bianco lo ha fatto il bianco sì l'ha fatto cosa ha fatto? ha preso un foglio ha puntato alla telecamera qui poi ha pigiato un bottoncino e la telecamera dice adesso io sono adjusted sono calibrata per poter operare che cosa ha fatto? ha fatto sì che i segnali perché là escono tre segnali uno relativo al rosso uno al verde al blu che questi tre segnali fossero uguali tra di loro perché questi tre segnali se sono uguali tra di loro quando arrivano qui sul monitor mi danno il bianco della luce del giorno e io ho bisogno che questo monitor sia bianco come la luce del giorno solo che quel suo modo di operare che fa la macchina da sola opera solo sul bianco e automaticamente tutti gli altri colori vengono riscalati di uguali fattori e quando noi vediamo l'immagine a monitor noi diciamo bello sembra la luce del giorno e siamo contenti va bene? classicamente noi abbiamo che queste immagini non sono mie ancora quel hunt di prima qui nello studio in cui si registra il telegiornale la luce è una lampadina a 3200 Kelvin le lampadine vengono espresse classificate in base alla temperatura come se fossero dei corpi neri ma non entriamo in quest'ambito a 3200 Kelvin noi ci troviamo qui nella sala in cui stiamo osservando il monitor e il monitor del bianco al bianco che è a 5600 Kelvin il doppio e lo pretendiamo così perché se non è così non è giusto e qui sono i ma perché non è giusto perché per la prima volta con un sistema televisivo noi potremmo avere di fianco alla telecamera un monitor va bene? e pretendere calibrare la telecamera in modo tale che questo colore che io posso venire qui e misurare sia uguale dal punto di vista colorimetrico a quello emesso dall'immagine di questo polsino sul monitor cioè abbiamo una riproduzione colorimetrica esatta bene la persona che guarda questo polsino nel monitor dice non è molto realistico per farlo realistico bisogna portare quel bianco come se fosse il bianco del giorno a 5600 Kelvin sorprendente quindi noi siamo in questa scena con questa lampadina che è a 3200 Kelvin c'è questo volto che è fotografato ripreso arriva sul monitor qui identico e questi dicono noi non lo riconosciamo come buono se facciamo questa elaborazione l'elaborazione che ha fatto la nostra operatrice sul bianco arriva qui e dice funziona bene ma questo è un grande mistero è un grande mistero perché non è ancora chiarito io queste immagini le ho tratte da una comunicazione di questo Riccardo Motta americano nel 2011 novembre quindi sto parlando di di ieri va bene e lui disse queste cose ve le traduco e lo leggiamo perché la televisione a colori per la prima volta ha offerto la possibilità di visualizzare affiancati l'originale e la riproduzione domanda perché è necessario modificare una scena illuminata da una sorgente a filamento di tungsteno 3200 kelvin come se fosse illuminata dalla luce del giorno 6500 anche quando la riproduzione è a fianco della scena originale cosa vuol dire quest'ultimo punto vuol dire che il nostro sistema visivo è adattato a quella stessa situazione visiva per la scena e per la riproduzione non stiamo parlando di adattamenti l'uomo l'osservatore è in quella certa è ovvio che poi questo ha aperto a delle filoni di ricerca sintetizzati in queste due domande potremmo entrare ma andiamo avanti rapidamente perché se no il discorso diventa lungo e McAdam nel 1956 un altro dei grandi della colorimetria e si poneva alla domanda ma come io faccio la fotografia con la luce del giorno e poi la guardo con la luce artificiale e tutto mi va bene eccetera eccetera poneva sostanzialmente gli stessi problemi usando un parolo un poco diverse ma sostanzialmente il problema c'era e c'è ancora oggi poi dopo lo stesso Hunt aggiungeva guardate bene che una volta che abbiamo fatto l'operazione di correzione del bianco gli colori sono tutti alterati ma ci va bene lo stesso purché non sia alterato il colore dell'incarnato è il verde di un prato di calcio da calcio perché se vediamo il prato che non lo riconosciamo come tale l'incarnato che non lo riconosciamo come tale le cose non funzionano ma questo potrebbe essere sul marroncino sul violaceo e va bene a tutti esempio concreto abbiamo questa fotografia qui sul tavolo e abbiamo la lampadina luce del giorno la fotografo la riproduco ed è uguale all'originale e io sono contento adesso cosa faccio cambio lampadina non faccio il bianco lascio la macchina come stava operando prima ottengo questo eh no eh qui non ci siamo non la riconosco questa come una buona fotografia se me lo fa il fotografo vado a protestare va bene e su questo problema che è ancora aperto c'è tutta una vasta letteratura qui vi faccio alcuni esempi ecco e fino a che comperando una macchinetta fotografica questa ci propone scene mode modalità a scena vale a dire a seconda della situazione in cui io mi trovo vado a vedere il manuale che cosa mi dice ah questa situazione è uguale a quella che ho davanti agli occhi faccio quella scelta e automaticamente ho un modo di riprocedere relativamente corretto fino a che le macchine ci propongono questo vuol dire che il fenomeno non si è capito soft proofing e ci avviciniamo al momento della progettazione perché quando io voglio stampare un oggetto una immagine e io prima ce l'ho a monitor e a monitor la vedo con un certo adattamento con il bianco di 65 e poi quando la vado a vedere stampata la vedo normalmente sotto una lampadina standardizzata come la lampadina deve essere a 5000 Kelvin e a questo punto operiamo potremmo quindi parlare di come avviene questa è la definizione di soft proofing è un meccanismo che consente di visualizzare su monitor del computer ciò che si otterrà nel processo di stampa in funzione della carta degli inchiostri e della tecnica di stampa ed è una cosa di una complicazione impressionante qui entriamo a fare l'elenco di tutte le norme ISO che riguardano questa materia e quando sono tante e vorrei invitarvi a leggerle vi renderete conto che sono anche indigeste ma procediamo e faldiamo tac dalla tavolozza alla scena e ci avviciniamo al punto i contrasti bene noi vediamo i colori sulla tavolozza e se andiamo a riportarli sulla tela per costruire una certa scena ecco vi propongo una piazzetta che c'è a Reggio Emilia chiamata Piazza Piccola quella dove c'è dietro al Duomo dove c'è lì vediamo l'abside del Duomo e la luce era quella del mattino molto presto e vediamo dei colori che definiremmo pieni usando un'altra parola che non sempre è corretta ma viene molto usata saturi e adesso inseriamo questa all'interno di una fotografia è vero che la fotografia io l'ho fatta a mezzogiorno ma è anche vero che questi colori a questo punto li percepisco come innaturali chi aveva ragione e beh il pittore ragionava con i suoi colori sulla tavolozza e li portava sulla tela e lui aveva i colori in mente più che i colori che aveva davanti quindi era condizionato in questa operazione dai colori mentali va bene uno dice mentre io faccio questa operazione la geometria salta no non salta affatto guardate è rispettata la cosa che invece è tremendamente diversa sono le dimensioni delle finestre e questo rende tutte le figure come più slanciate c'è vero che c'è il tamburo della cupola che è un pochino diverso ma per il resto non c'è questa grande differenza le geometrie sono rispettate quindi ragionare con la tavolozza la tela e la macchina fotografica avete visto quale grande scarto la dinamica questo è un bellissimo quadro di Annibale Carracci coevo del caravaggio il caravaggio è quello delle luci che tagliano tutti interni escludendo qualche cosa in esterno ma appena appena e quello che non è in luce sotto una lama di luce è pressoché nero qui invece c'è tutto partiamo da questo paesaggio appena accennato sullo sfondo ma noi lo percepiamo veramente così arriviamo a questo tronco dove vediamo la corteccia nei suoi dettagli se noi fossimo là vedremmo quello che c'è nel quadro saremo in grado di percepire in modo dettagliato la scena lontana come la corteccia davanti ai nostri occhi e andiamo oggi con la macchina fotografica a cercare di fare una cosa analoga l'abbiamo un promontorio questo è un ulivo l'ulivo com'è? Nero accidenti e allora interveniamo sulla macchina per modificare l'esposizione e rendere un pochino più esposto la pianta d'ulivo per poter leggere il tronco e allora cosa succede? Adesso leggiamo il tronco ma là è scomparso tutto quindi quando noi entriamo nel fare del progetto dobbiamo rapportarci con la dinamica dello strumento con cui simuliamo quello che vogliamo realizzare sono dinamiche diverse e come tali è evidente che nel progetto nel soft proofing dobbiamo forzare la situazione perché la realtà non siamo in grado di riprodurla sto arrivando le scene cromatiche andiamo negli Stati Uniti e ci pregano di andare a vedere un paesaggio un vecchio villaggio che ricorda la loro storia dove tutto è colorato in questo modo dove tutto è falso dove tutto è fatto di ceramica quindi quei pomodori quei peperoni quel cocomeri sono tutti di un rosso più o meno uguale perché? perché è ceramica dipinta è un effetto molto strano surreale sapete vedere questo mondo ma adesso entriamo in una realtà più europea perché io quando vedo angoli come questi mi trovo molto bene vorrei che tutta l'Italia fosse angoli come questi non è l'Italia ma poco importa sapete e io in questa scena vedo una scala cromatica molto tenue uso le parole di uno che non è un esperto di queste cose lascio Adaldo ad essere più ricco perché tu sai essere molto più ricco su queste cose però ritengo una scala armoniosa e non uso altre parole cioè io mi trovo bene lì ecco però molto probabilmente se faccio così mi troverei meglio ma ho fatto un bel lavoro non lo so qui sono intervenuto sulla fotografia e non vi dico quella è la fotografia vera una delle due perché poi la fotografia non ci dice la verità e andiamo qui io vorrei essere con il mio studio su quel terrazzo ma non è possibile però devo dire questo che quella persona che ha avuto l'idea di fare di quel colore grigio quella passeggiata sopra al lì insomma sto invecchiando sapete ogni tanto qualche parola che normalmente uso non mi esce e guardate il mare come si armonizzano e penso che se anziché essere in un giorno col cielo così fosse stato un giorno con il sole squillante tutto sarebbe ancora armonizzante e quindi la parola che non mi veniva è chiostro perdonate e allora andiamo qui a cui io adesso non ho parole di fronte a questo in base a tutto quello che ho detto io dico interessante molto interessante ma ho poco da dire e se vado qui forse è lo stesso architetto questo è uno degli alberghi più famosi di Madrid perché? perché è tutto rosso va bene senza significati e poi andiamo qui e qui cosa succede? che colore c'è? è un colore riflesso il colore degli specchi qual è? e poi ci sono dei materiali che sono inqualificabili come colore se io vado a prendere lo strumento quelli che noi abbiamo normalmente che sono degli spettrofotometri lo pongo lì così o cosà molto probabilmente ho misurazioni differenti perché sono materiali a effetto gonio dipendente cioè la direzione con cui la luce arriva su questi oggetti e la direzione con cui noi la accogliamo come osservatori accidenti è importante e penso che oggi un architetto che abbia a che fare con questi materiali abbia da divertirsi ma abbia anche da documentarsi molto sulla natura di questi fenomeni sono generalmente prodotti da interferenza questi colori e qua guardate che qui è tremendo tremendo l'intuizione guardate questa striscia e questa striscia riflettono tutte e due sostanzialmente con un po' di differenza poi scendiamo questa non riflette e questa riflette con una piccola variazione qui penso che sia un discorso di lunghezza d'onda sono materiali cosiddetti dicroici la cui capacità di riflettere o trasmettere la luce dipende dalla lunghezza d'onda e dagli angoli tipiche sono le lampadine che noi abbiamo quelle chiamate dicroiche perché sono trasparenti nell'ultima parte del rosso e dell'infrarosso in modo tale che questo se ne vada senza essere riflesso sull'oggetto che stiamo illuminando bene per fare questo occorre una conoscenza dei materiali che non è penso banale e penso che il risultato lì sia apprezzabile è come andare a misurare il colore di una bolla di sapone tutt'oggi sappiamo calcolare però e poi andiamo a prendere i colori a pigmenti micacei quelli delle nostre automobili quelli che hanno il colore cangiante a seconda di come le vediamo e della luce come arriva qui la misurazione classica è saltata tutta tant'è vero che gli spettrofotometri dovrebbero essere dei gonio spettrofotometri che misurano la luce in funzione dell'angolo di incidenza e dell'angolo di osservazione poi hanno ridotto tutto e li chiamano multiangolo perché funzionano con particolari angoli di incidenza e di visione stiamo vicini alla fine però vi propongo questa torre che si trova a Barcellona che ha un colore perfettamente cangiante da questo è quello che noi percepiamo mi porterebbe a richiamare Gaudì ma questo è un altro discorso che se qualcuno poi mi chiede Gaudì e questo allora gli rispondo ma se no andiamo avanti ma allora avviciniamoci perché ci rendiamo conto che qui abbiamo un sistema di celate di lamelle che vengono diversamente orientate in modo tale che dentro le varie stanze di questo edificio arrivi più o meno luce è un modo abbastanza diffuso sapete in Andalusia dove fa molto caldo e in qualche modo richiama la cultura araba ebbene in questo modo uno modificando la posizione delle proprie lamelle e interviene a modificare il colore che percepiamo relativo a quella zona e quindi è un grattacielo che cambia a seconda dell'umore della persona che ci trova in quell'ambiente ed è io quando sono arrivato lì non andavo più lì perché era tutto un momento di meditazione perché poi ci sono gli altri edifici a fianco che non sono da meno e quindi il discorso si allarga poi di notte diventa questo e forse è un po' kitsch ma si entra in una dimensione che non è più la mia l'illuminazione qui abbiamo la tavolozza della delle luci per l'illuminare e potremmo illuminare se volete così questa è una sala di una mostra mentre uno faceva il suo percorso passava qui e lo si può accettare qui c'è scritto CRI che vuol dire Color Rendering Index indice di resa del colore e la CIE quella famosa organizzazione ha definito un modo per calcolare questo indice e se vale 100 è perfetto se vale 80 può andare bene eccetera qui siamo inqualificabile cioè è una situazione non qualificabile al punto che questa statua questa scultura famosissima che si trova in tante coppie questa si trova al Metropolitan di New York l'hanno illuminata con luce perfettamente monocromatica è una lampada ha i vapori di sodio bassa pressione e è gialla che dire interessante poi ci giriamo attorno e così e noi veniamo colpiti dalla posizione di questa figura ci preoccupiamo di qualcos'altro no è questo che cogliamo ed è anche questo che ci dà piacere nel vedere così ce la propone Lagarde Orsay qui l'indice di resa del colore vale 100 quindi è perfetto però io direi che uno non vede e non gode quell'oggetto come nel caso precedente quindi le regole sono importanti la violazione ci può portare a situazioni visive molto molto interessanti quindi queste colorazioni delle luci oggi vengono usate con libertà e con creatività e qui vediamo un edificio che è scansionato in una parte a luce diciamo diurna e l'altro decisamente sodio forse alta pressione bene e uno dice ah qui c'è una funzionalità dove la gente si trova cioè nella parte bassa è illuminata con luce bianca mentre sopra con luce gialla però questa regola non vale più mentre quando andiamo qui perché tutte le cose adesso sono tra di loro mescolate adesso vi propongo è uno scherzo questo si fa per dire però è la verità domanda il colore di questo muro qui e il colore di questo muro qua fisicamente come sono è diversi no sono identici è lo stesso materiale qui siamo in un certo piano dell'università di Granada io ero lì a fare lezione sono andato in aula cinque minuti prima e quindi sono stato in questo atrio in attesa e mi è nato questo confronto da fare e debbo dire che uno che si trova là vede questo colore e questo come uguali ho fatto la fotografia ed ecco il risultato colorimetricamente è più corretto questo di quello che io percepivo però sta di fatto che se io adesso mi vado a porre il problema voglio progettare l'illuminazione di questa situazione lo faccio colorimetricamente e ottengo questo e ottengo un risultato corretto colorimetricamente ma che non mi convince dal punto di vista percettivo e quindi come vedete il progetto si complica vi propongo solamente per dire questa è una scena realizzata col computer per simulare una certa situazione però è evidente che i problemi che vi ho detto ci sono tutti e questa bellissima immagine di un famoso fotografo vediamo delle colorazioni forti ma molto probabilmente se noi fossimo in quella scena non le percepiremmo come così forti e la bellezza di questa immagine se non siamo un artista come questo fotografo difficilmente l'accoglieremmo e ancora quante volte ci è capitato di passare vicino a una luce che ha attraversato un filtro e quasi non accorgerci qui adesso perché il colore è riprodotto in qualche modo lo vediamo ma sono sicuro che se noi passiamo di fronte a questo muro in questa identica situazione questa varietà cromatica non la percepiremmo e sostanzialmente non potremmo godere di quello che vediamo in questa scena mentre vedremmo questi colori va bene quindi come dire quando si va nella realtà o nella riproduzione accidenti c'è qualcosa che ci sfugge questa sostanzialmente è una delle ultime o la penultima o l'ultima chi ha governato queste luci e questi colori e doveva saperla molto lunga perché non è facile governare colori per scene è così ampie dando l'illusione o l'incertezza il dubbio ma queste luci sono così perché sono proiettate o sono così perché sono dipinte va bene siamo nella metropolitana di Monaco di Baviera quindi abbiamo a che fare con un problema di compensazione dell'illuminazione per passare dalla scena reale alla riproduzione poi abbiamo il problema dei contrasti le assimilazioni della dinamica quindi come vedete abbiamo un insieme di fenomeni che tra di loro intervengono e interagiscono che ci rendono molto difficile controllare il progetto è una sfida conclusione molti meccanismi della visione non sono ancora capiti la teoria non ha ancora completamente sostituito l'esperienza visiva ma operare con i numeri è utile spesso indispensabile e vi lascio ringraziandovi per l'attenzione a questa immagine di un graffitaro di Granada che per me è grandissimo vi faccio notare una cosa il marciapiede è pulitissimo ci sono due cestini per la spazzatura come devono essere segno di grande civiltà giriamo un poco per le nostre strade e ci vergogniamo un pochino grazie per l'attenzione diventa altrettanto chiaro capire perché abbiamo fatto un centro studi a cosa può servire un centro studi e quanto ci sia da lavorare per riuscire a scoprire quanto ancora è da scoprire e per portare al mondo del progetto e al mondo della produzione e al mondo dell'artigianato delle possibilità di nuovi percorsi tutti parlano di innovazione ma l'innovazione deve essere coltivata ci si arriva per gradi prima parlavi di quanti anni sono stati necessari per approfondire certe cose 30 anni 10 anni 20 anni l'ordine di grandezza è questo nel nostro piccolo sono 27 anni nel nostro piccolo quindi il senso di creare un luogo prima nel 2003 è nato in Liguria e nel 2009 qui in Brianza un luogo per poter far incontrare persone esperienze e competenze è stato penso affrontato molto bene allora mi piace che almeno qualche breve passaggio possa essere fatto sul progetto che abbiamo in essere colore fenomeno auto-evidente cos'è il colore un'esperienza che appartiene a tutti e che troviamo davanti ai nostri occhi allora perché porsi troppe domande quindi dalla scelta al progetto del colore stasera abbiamo visto che ci sono delle cose di mezzo tante cose il colore ai nostri occhi appare come un fenomeno auto-evidente per questo ne rimaniamo inesorabilmente ingannati Hegel diceva a proposito di ciò che si considera già acquisito ciò che è noto proprio perché è noto spesso non è conosciuto il suo eccesso di evidenza vela e nasconde la sua vera essenza e questo ci pone di fatto in una condizione di non governo perché la complessità del fenomeno risulta sottovalutata è così tanto sottovalutata che pur essendo il colore la maggiore fonte di fatturato al mondo non è la guerra non è l'energia ma è la chimica dei coloranti che fa il maggior fatturato al mondo eppure non ci sono università non ci sono anche corsi i nostri sono tra i pochissimi in tutta Italia e questo evidentemente è problematico però se ci poniamo qualche piccola domanda già capiamo ma io adesso corro perché hai già chiarito bene tu quante cose sono sottovalutate o sono da scoprire ma anche banalmente se ci chiediamo quanti sono i colori dell'arcobaleno il primo numero che ci viene in mente a tutti è 7 ma 7 sono stati nominati così perché altrimenti andava a rogo a quei tempi chi le ha analizzati però a tutti noi ancora oggi diciamo i 7 colori dell'arcobaleno dove si trova il colore questo blu dove si trova a tutti noi viene in mente che questo colore è lì che problema c'è in realtà come prima abbiamo sentito si forma solamente nella parte posteriore del nostro cervello quindi non si può comunicare intendevi dire se si forma l'apparenza nel mio cervello se io sono da quella parte lo vedo illuminato in un modo se sono da quest'altro lo vedo illuminato in un'altra ma come faccio a comunicare do per scontato che tu lo veda come me io ho 60 anni lui ne ha 20 già c'è un po' di differenza abbiamo visto il colore si vede o si percepisce bene il colore si vede prima dell'occhio è una cosa ma quando passa l'occhio e arriva neppure il cervello arriva alla mente diventa una cosa sostanzialmente diversa e quindi ecco che il vedere e percepire diventano altri due momenti di studio molto molto importanti ma perché importanti per noi perché se devo disegnare la casa per il signor Giuseppe o la signora Maria io interrogo Giuseppe e Maria e cerco di dare una risposta ma se progetto un ospedale se progetto uno spazio pubblico se progetto una scuola a chi mi rivolgo ai 22 idiomi diversi dell'ospedale di Vicenza che cartelli scrivo cosa dico allora diventa importante capire qual è la componente che io chiamo di estetica biologica che induce una forma intersoggettiva di comunicazione usare il colore non significa conoscerlo e scegliere il colore non corrisponde a progettarlo di solito viene scelto e non progettato ecco perché ci sono i centri studi perché con i ragazzi stiamo affrontando dei percorsi molto lunghi di verifica degli strumenti delle metodiche e del linguaggio da utilizzare perché la parte così articolata che abbiamo appena sentito non è per una forma di mania tassonomica di voler dare nome per forza alle cose ma è una necessità per fare dei modelli trasferibili per avere un linguaggio che ci consenta di condividere determinate cose ma anche di verificare e di correggere e di rendere più espliciti certi passaggi quindi è fondamentale anche fare questo percorso di ricerca di studio di dare nome senso misura alle cose senza questo percorso non si può andare tanto lontano possiamo fare gli artisti questo sì ma in senso lo dico in senso positivo non in senso negativo è un altro ruolo anche perché tu quando chiudi e parli di illuminazione coerente con un indice di resa del colore stiamo parlando di qualche cosa che ha a che fare con il robot con la macchina ma lì di espressione di significati non c'è nulla quindi ecco che invece un modo di affrontare il racconto con capacità espressiva quella ballerina gialla è illuminata molto male secondo il CRI ma espressivamente è molto efficace ecco dove l'arte o la capacità dell'arte di trasfigurare il mondo diventa importante il progetto sta lì il progetto purtroppo sta un po' di chi un po' di là cioè deve essere capace di espressione ma deve anche essere capace di modelli e di linguaggio scientifico condivisibile altrimenti io e Francesco io e Riccardo possiamo raccontarci delle cose ma il progetto ce lo possiamo trasferire solo un pezzo ma via computer o telefono non possiamo trasferire dei dati abbiamo bisogno di notazioni abbiamo visto come il prima dell'occhio e il dopo occhio sia una discriminante molto importante prima sono energia fenomeni fisici non c'è colore prima sono radiazioni interazioni con la materia misurazione colore intrinseco di superficie non colore percepito che è un'altra cosa dopo l'occhio ecco che ci sono significati esperienza cultura dove la componente naturale e la componente culturale l'uomo con due nature si innescano a tal punto da diventare inestricabili ecco la difficoltà del dover passare sempre da una misurazione a un'interpretazione tu dicevi è giusto è più giusto io posso misurare certe cose ma sapere che cosa è più giusto dipende dalla scelta espressiva che poi verrà fatta quindi il discorso dei significati diventa molto forte il colore qui vedi che ho accennato in questo breve racconto questi valori sono gli indici di ingiallimento del cristallino e questa doppia natura che interferisce o meglio che interagisce ed è una presenza alla quale tenere sempre molto conto adesso vado molto velocemente altrimenti vi stresso troppo ma la chiusura la voglio fare sugli interventi e sugli esempi ecco anche parlare di saccade o di saccade micro saccade sembra a volte di dire ma che cosa mi stai dicendo perché mi devo occupare io designer io architetto dei movimenti della pupilla perché attraverso questi micro movimenti io leggo le forme leggo il mio contesto la mia facciata la vado a leggere attraverso questi micro movimenti e quindi se io anche solamente con il colore vado a modificare interpretare in modo diverso questa facciata ecco che obbligo il cervello a percorsi diversi e quindi posso decidere priorità di lettura ribilanciare eventuali disequilibri riportare simmetrie inventarmi nuove forme anche su superfici molto molto banali qui vediamo un'applicazione che abbiamo studiato insieme questa è una scuola tutto molto pulito tutto molto in ordine tutto molto banale espressivamente poco efficace non siamo molto accolti in uno spazio del genere e io come relatore con un rapporto figura sfondo così non è che mi sento particolarmente efficace diciamo ecco devo far fatica lì dentro diciamo così allora che cosa si può fare quando i vincoli sono molto forti cioè puoi solo dipingere non puoi modificare nulla le tende sono quelle le poltrone sono quelle il pavimento è quello allora qui abbiamo adottato due criteri associati o meglio due principi o meglio due caratteristiche vale a dire quando si creano delle linee di confine con un delta un delta E abbastanza ampio io obbligo il cervello andare a leggere questa linea di confine l'altro principio se io impiego il colore di minore frequenza relativa associato ad un colore di maggiore frequenza relativa creo una scala di posizioni di priorità di avanzamenti o di arretramenti in questo caso abbiamo il colore di minore frequenza relativa nella parte centrale poi il colore di maggiore frequenza relativa e quello di maggiore ancora frequenza in questo caso abbiamo l'avanzamento della parte centrale e lo sfondamento del plafone in questo caso il tappeto volante che avete sulla testa non fa altro che accentuare il senso prospettico verso la parte centrale della della sala così verso l'uscita si ricrea una situazione del genere ecco in questo caso si è usato solo il colore un incremento di spesa che in questo caso era attorno al 5% della spesa quindi praticamente nulla un effetto decisamente superiore un aspetto che intendiamo mettere in evidenza è questo questa soluzione di forma di linee e di colori di tavolozza è l'unica per ottenere questo effetto no potete utilizzare tavolozze varie diversificate potete utilizzare forme linee varie così allora diventa interessante perché se siete a Trieste a Vicenza o a Napoli avete un rapporto ambientale culturale completamente diverso se vi chiamate Giovanni Antonio Francesco potete esprimere la vostra visione del mondo cioè quella componente espressiva e quelle soluzioni formali estetiche che sono dei singoli e non sono un timbro di fabbrica di Botto Libertagna che hanno inventato un certo sistema un altro esempio qui siamo in Liguria una raffineria non è una grande condizione architettonica in questo caso abbiamo la sfida era cerchiamo di evitare che ci sia una barriera che impedisce di vedere il paesaggio che impedisce all'occhio di andare al di là di un campo in primo piano di un campo in primo piano e questa è stata la soluzione vedete che il rosso non è mimetico quindi non c'è solamente una scelta di mimetismo è una scelta di frazionamento e di riduzione di linee di confine il bianco crea una linea di confine con un delta molto forte il rapporto figura sfondo qui vedete che è molto molto violento in questo caso è attenuato ecco che il vostro occhio può andare a osservare meglio il paesaggio non è che la qualità di quell'ambiente è cambiata ma c'è un maggiore rispetto di un paesaggio circostante quando ci dicono ma una ciminiera è una ciminiera oppure una raffineria è brutta per cui deve essere ancora più brutta così forse la toglieremo mi sembra un discorso un po' perverso incominciamo a rispettare il meglio possibile o il più possibile certe situazioni dopodiché non è che possiamo risolvere il mondo noi noi cerchiamo di intervenire e di attenuare l'attenuabile insomma altro esempio che è in corso d'opera stiamo studiando un grosso ospedale l'ospedale di Albabra e come intervenire su camere che sono disgraziate abbiamo avuto quasi il pudore di far vedere la camera ma questo è un ospedale nuovo queste camere sono adesso hanno la rappresentazione di un letto in teoria ne vogliono mettere due in realtà non si muovono neanche con un letto non ci sono armadiature se non dei piccoli armadi di fianco al letto di fatto sono delle piccole celle stiamo studiando come intervenire sulle pareti per creare con effetto trasparenza a proposito di Savardi e con linee tese semplici un paesaggio allora la ricerca che stiamo facendo va in questa direzione adesso siamo diciamo a metà del guado come si vuol dire con Camilo Villa Lisa Castelli stiamo studiando come semplificare ulteriormente la cosa l'obiettivo è rappresentare un paesaggio cioè quinte sceniche che evochino un paesaggio togliere il più possibile affinché quel paesaggio non sia classificato come collina mare montagna campo arato campo di fiori ma sia rappresentato da quinte sceniche c'è un primo piano c'è una trasparenza c'è qualcosa dietro basta in questo modo teniamo due almeno due risultati non serve un decoratore un artista per farlo ma basta mano d'opera comune quindi rimaniamo nel nostro obiettivo di incremento di spesa minimo di riqualificazione di un budget di spesa non di incremento perché un ospedale non si può permettere in 450 stanze decorazioni pittoriche secondo obiettivo che riteniamo più qualificante siccome il nostro cervello lavora soprattutto con la memoria quindi riconosciamo in tutto il paesaggio portiamo il nostro vissuto se io sono capace di dare l'idea di paesaggio dicendo pochissimo di un singolo paesaggio consento ad ognuno di noi di vedere il proprio paesaggio e quindi dietro lì io che sono nato sul lago vedrò il mio lago e penserò di poterci navigare dietro lì io contadino immaginerò il mio campo dove vado a coltivare dietro lì io appassionato di montagna piuttosto che immaginerò le mie cose ecco dove stiamo cercando di lavorare vestendo uno spazio che di solito è nudo o ha arredi di basso livello o ha una componente elettromedicale molto rilevante spostando l'attenzione dalla componente elettromedicale a quella alberghiera cercando di portare scenografie che forino lo spazio che lo dilatino perché questa stanza è piccolissima abbiamo una prossimità che è veramente opprimente cercando di dare delle soluzioni di tavolozze e allogative noi queste forme di associazione le chiamiamo allogazioni pensiamo che non si possa fare un progetto corretto dal punto di vista percettivo solo pensando ai colori non è possibile perché tutti i nostri sensi collaborano sempre insieme non è solo l'occhio in questo caso tavolozze allogazioni e racconto narrazione del singolo vissuto del singolo che si aggiunge pensiamo di poter portare una strada utile all'interno di spazi comuni critici come quelli ospedalieri questa è una ciminiera davanti al museo del mare a Genova in questo caso abbiamo utilizzato uno strumento particolare per leggere i colori lontani delle facciate ricreando una tavolozza che potesse avere una doppia lettura per chi cammina sul lungomare per chi transita sulla sopraelevata qua in macchina quindi ha una velocità tangente diversa e quindi si è creata una rotazione una sorta di suono visivo e con questo concludo la carrellata ma la ritengo importante questa soluzione qui siamo a Cernobbio Axe Nobel appena terminata la fabbrica nuova hanno costruito dei filtri e una capanna in lamiera di fianco tutta verde in lamiera e chiaramente l'architetto l'ingegnere ma anche la proprietà hanno detto beh sta proprio male questo è l'ingresso una capannina di lamiera che facciamo e qua per la prima volta abbiamo cercato di applicare quello che i neuroscienziati hanno messo in evidenza sui meccanismi percettivi e quindi abbiamo creato il distrattore ottico che non è altro che questa forma cioè se io vado ad aggiungere delle linee di confine con un certo delta obbligo il cervello a leggere prima questa cosa tutte queste linee delle fasce di alluminio e i rivetti che intravedete vedete qua rivetto 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 se io metto un unico colore il cervello legge subito le linee del modulo di lamiera e i rivetti superficie di metallo se io invece obbligo il cervello a leggere questa forma o altre forme anche qui vale il discorso di prima potete fare delle forme diverse potete utilizzare le tavolozze diverse come vuole Camillo come vuole Giovanni come vuole Francesco ecco che in questo modo trasfiguriamo quella superficie metallica aggiungendo racconto significato e orientamento di lettura in questo caso è un'estetica biologica che guida non un'estetica culturale lì ci sono quadrati ci sono qualunque forme io dialogo con le modalità percettive del cervello che va a leggere prima la linea di confine quindi non è un fatto estetico ma un fatto sostanzialmente di guida ad una lettura biologica chiudo dicendo ciò che condividiamo è un frastagliato mondo dei significati simboli e linguaggi verbali e non verbali e tutto avviene dentro un rumore di fondo a volte assordante ecco che il luogo i luoghi e i linguaggi condivisibili divengono necessità imprescindibili al fine di adempiere al nostro ruolo di eventi gettati gettati nella vita ma con una preziosa dote la capacità o la possibilità di essere coscienti di uno stato e la capacità o la possibilità di dotarci di etiche sociali tutto è possibile ma non è già dato luoghi e linguaggi sono da progettare da perseguire la caparbietà con caparbietà pena la perdita di una umanità possibile i nostri luoghi di scambio di costruzione comune li dobbiamo costruire conquistare prima e costruire e gli osservatori sono un po' frutto di questa caparbia ricerca di spazi buona serata grazie 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 a tutti grazie a tutti